Félix è stato qui 50 anni fa, 50 anni fa. Come ti ricordi di questo posto? E cosa pensi di ora? Mi ricordo con grande gioia. Adolfo mi insegnava di water ski quando ero 16 anni. E lui era un grande dottor del volo. L'ho abbiato. E per un momento ero il dottor del volo. L'ho abbiato tutto il mondo. Ma ho venuto tornare a vedere lui. Quindi lui ho scritto una carta. E l'ho abbiato solo ad Adolfo Positano, Italia. Cosa pensi di Positano? Mi piace Positano. È come un'altra casa per me. Grazie.